Tutta roba originale 1, 2, 3 1, 2, 3 Ricchi e morti E' un'azienda celeste Questo per restare in tema Se lo sbaglio riuscire così Bene E ciao a tutti ragazzi Io sono Gilda Fashion E benvenuti in questo mio nuovo video All Gli avete capito bene ragazzi All a base di O meglio A tema di Ricchi e morti ragazzi Sì ho comprato queste cose da Macedonia Che sta a Bari Nella mia città E adesso io vi farò vedere Tutte le belle chicche che ho preso Però prima vi invito gentilmente Ad iscrivervi al mio canale Piggere sul tasto della campanellina Lasciarmi un like di supporto Un commento se volete che vi saluti Nel video di domenica prossima E per sostenere il mio canale Basta che condividete i miei video con chi volete Ma adesso Sigla Da dove vogliamo partire ragazzi? Guardate cosa c'è qui dentro Tutta roba originale Oddio non voglio rompere nulla Cosa abbiamo qui ragazzi secondo voi? Vi do tre secondi per indovinarlo Oddio tre secondi Cinque secondi per indovinarlo Cinque quattro tre due uno Ok tempo è scaduto Allora qui abbiamo una t-shirt Della mia taglia Quindi la S E quattro accendini Favolosi Solo che io dovrò regalarli Perché io non fumo No Io non fumo In famiglia non fuma nessuno Sennò la sigaretta elettronica A chi li posso regalare? Ci penserò Ci devo pensare Bene Quindi iniziere dagli accendini Perché la t-shirt me la metto dopo Allora Io inizierei da questo Che carino Oddio che cos'è? Uh che bello Cos'è un serpentone Non lo so Un tentacolo Guardate che carino raga Ditemi Se non è bello Come funziona? Io non ho mai fumato in vita mia Va bene ok Io ho paura Ho sempre avuto il terrore di bruciarmi Quando faccio così È bello C'è scritto clipper E si può riutilizzare In pratica Guardate che bello Guardate che bellissimo Sinceramente sono veramente belli Abbiamo questo qui Andiamo avanti ragazzi Poi 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 vediamo Che cosa prendo? Uh bello anche questo Guardate questo qui La collezione era di quattro E io li ho presi tutti e quattro Non volevo perderne manco uno Guardate che carino Bellissimo no? Metto anch'io la mano Che bello Dovrebbe stare con un Questa è una pistola? No Dovrebbe essere tipo una pistola gigante Non lo so Ha qualcosa in mano per sparare insomma Ok Adesso passiamo a questo qui ragazzi Oddio che carini Allora la faccia da scheletri Molto bello Mi piace Non è fantastico ragazzi? Guardate Uh che carini Vedete? Ve lo faccio vedere meglio Sì Creeper E poi abbiamo Ah ho capito Guardate E infine c'è praticamente Morty Quindi in altre parole abbiamo Rick Qui La stessa figura Però con Morty E poi praticamente abbiamo Rick e Morty insieme In questa scena classica E questa qui invece Dove sparano i credo Sì dove sparano insieme Molto bello Adoro Top Top Va bene ragazzi Io adesso Devo vedere se la maglietta mi sta bene Però a patto che sotto nei commenti Voi mi dite quanto mi sta Bene A proposito Avrete certamente notato Che ho i capelli azzurri celesti Questo per restare in tema Se lo sbaglio Rick ce li ha così Bene Mi metto la maglietta Allora Guardate che bella Uno Due Uno Due Tre Uno Due Tre Rick e Morty Veniti a me Guardate che bella raga Cioè è originale raga Vediamo un po' Scusate Ok Scusate Devo cambiare un attimino Qui Ecco È originale ragazzi Guardate E anche all'interno Questa t-shirt Ok Ecco qui ragazzi È bella È bella vero ragazzi Guardate che carini Guardate che carini Lasciarmi un like Di supporto Commentate Fatemi sapere due cose Se mi sta bene la maglietta Quanto mi sta bene E commentate semplicemente Se volete essere salutati Nel video di domenica prossima E condividete i miei video Per aiutarmi a sostenere il canale Io vi mando un abbraccio immenso E un bacione Della vostra Gilda Fashion Sottomettiti Sottomettiti al selfie Sottomettiti al selfie